Veglia funebre a Cuba per il ministro della difesa Julio Casas Regheiro, deceduto sabato per un attacco cardiaco, aveva 75 anni, la sua morte sottolinea l'urgenza del ricambio per un regime ai cui vertici carichi di esperienza ed onore per aver partecipato alla rivoluzione del 59, sono oggi piuttosto anziani, in buona parte ultraottantenni.